Nuovo sequestro con effettiva esecuzione dei 12 depuratori di 7 comuni frentani gestiti dalla Sasi S.p.A. di Lanciano, ente gestore idrico e fognario con 92 comuni soci. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Rosaria Vecchi. La nuova indagine vede indagato il neopresidente Sasi Gianfranco Basterebbe, accusato di reato ambientale. I comuni interessati agli impianti illegali sono Lanciano, Treglio, Santa Maria in Baro, Atessa, Quadri, Bomba, Rocca San Giovanni. I sindaci di questi comuni stavolta hanno avuto direttamente l'affidamento giudiziale, quale autorità sanitarie, dei depuratori sigillati. Il nuovo provvedimento di sequestro, eseguito dal comando del NOE di Pescara, è scaturito dal lungo ritardo nel sanare la situazione di inquinamento e le autorizzazioni regionali dopo il primo sequestro avvenuto il 28 aprile 2015, che poi portò sotto processo attualmente in corso l'ex presidente Sasi Domenico Scutti e Alfiero Marco Tullio, amministratore Coesse, società con appalti per controllare gli impianti di Atessa, Bomba e Quadri. Nei loro confronti il Ministero dell'Ambiente e parte civile aveva avanzato richiesta di un maxirisarcimento danni per 25 milioni di euro totali, pari a 12,3 milioni di euro ciascuno. La nuova indagine è scattata a conclusione dell'ultimatum che la Procura di Lanciano aveva fissato al 30 settembre scorso per sanare tutti gli aspetti previsti dal primo sequestro. Secondo la magistratura frintana, in un anno e mezzo non è stato fatto nulla. A tale scadenza la Sasi presentò un nuovo cronoprogramma di interventi, ma in particolare diverse autorizzazioni regionali sono giunte in ritardo. Grazie. Grazie. Grazie.